Allora, stiamo arrivando a concludere gli argomenti proposti sul vostro libro e rimane da vedere la statistica B variata. Ho messo, come sempre, un riassunto di quello che c'è sul libro che voi dovete leggere e cerco di mettere in rilievo quello che secondo me è più importante. Allora, quando si parla di due variabili, due caratteri, si dice bivariato. Noi facciamo statistica descrittiva, quindi la parola descrittiva ci sarà sempre, ma il vostro programma è proprio quello di descrivere i nostri dati attraverso delle opportune elaborazioni. Le dimensioni sono due, due variabili, due dimensioni a doppia entrata perché le tabelle verranno guardate sia dalla parte delle righe sia dalla parte delle colonne. E quindi quello che faremo oggi è, guardando queste tabelle, di vedere se tra le due variabili, tra i due caratteri, ci può essere un'associazione reale oppure solo un'associazione apparente. Cioè, quello che noi... voi sentite il ritorno? Non sentite la doppia voce? Può essere che dalle tabelle sembri che ci sia un aggregarsi di frequenze più verso certe zone rispetto a certe altre. Questo potrebbe essere apparente. L'associazione che andremo a misurare noi avrà un modo oggettivo, reale, di quantificare, di verificare se esiste e quantificare quanta associazione ci può essere. L'associazione è collegato anche al concetto di dipendenza. È che noi, con questo indice che faremo oggi, non saremo in grado, con questo indice, di capire la direzione. È la variabile X che dipende dalla Y o il viceversa? Saranno altri indici, che esistono in letteratura, non questo. Perché la scelta di questo indice? Perché questo è un indice, che si chiamerà chi quadrato, che permetterà di calcolare l'esistenza, di valutare l'esistenza di questa associazione anche in variabili qualitative, anche in variabili nominali, sconnesse, non ordinabili. Quindi nel primo posto della catena delle variabili, contandola più semplice, noi potremo misurare, verificare l'esistenza e misurarla di una eventuale associazione. Pensate a tutto quello che in genere si fa. Noi in genere cerchiamo sempre di mettere insieme due o tre variabili. Medicina, l'effetto e guarigione. Prendo la medicina o meno, vabbè, conto quante pastiglie, ma vedere gli effetti, vedere la relazione. Tipologia di studio e tipologia di lavoro. Qualifica di studio e livello di salario. Cioè, cambia. Bene, quindi vogliamo mettere in relazione due caratteri, non sappiamo la direzione, appunto vogliamo misurare l'intensità e quello che andremo a fare oggi sarà il chi quadrato. La prima versione del chi quadrato la calcoleremo su una tabella grande, dopodiché in realtà, dovendo fare degli esercizi in poco tempo, avrete sempre delle tabelle molto più contenute. Però ci vuole una tabella grande per capirne un po' il senso. Bene, anche qui il chi quadrato avrà sempre due misurazioni. La prima misurazione è che è quella assoluta. 48, 23, 1, 7. Dopodiché però ci vuole un altro metodo di misura per capire se questa misura assoluta sia grande o meno. Quindi, come sempre, misura assoluta, il valore massimo possibile e facendo il rapporto, arrivare alla misura relativa. La misura relativa è quella sempre che è compresa tra 0 e 1. Scusate, verifico che si stia registrando. Sì. Bene, quindi è sempre la stessa... Sempre lo stesso iter. Eccola qua. Bene. Abbiamo una tabella a doppia entrata. Tabella a doppia entrata, dove si mette nelle colonne o nelle righe la variabile x o y, è assolutamente irrilevante. Adesso noi, per abitudine, mettiamo sempre le x in riga e quindi io copierò questa abitudine e le colonne le metto con tutte le modalità della y. Quindi se io contassi, chiedessi a tutti, x1, x2, x3 può essere gelato, gusto, pistacchio, cioccolato, crema. A quanti piace crema? E tutti rispondono. Le frequenze che sono al margine della riga si chiamano frequenze marginali. Le frequenze marginali sono dei totali parziali, cioè sommo, al di là dell'altra domanda che io farò, sommo tutte le persone che rispondono x1. Quindi il totale di tutti quelli che hanno x1 vengono conteggiati qui. La stessa cosa la si può fare per colonna. y1, y2, y3, y4, posso chiedere qualsiasi altra cosa e chiedo chi di voi sceglie y1? Tutti rispondete e metto qua il totale. Anche qui metterò il totale di y2, y3 e y4. Quindi ai bordi della tabella, come è ovvio, come è di buon senso, metto delle somme che si chiamano marginali proprio perché stanno a margine della tabella. All'interno invece io vado a chiedere un'informazione che è molto più dettagliata perché chiedo ma di chi aveva detto x1, quanti di loro sono anche y1? Allora una parte di x1 alzerà la mano, l'altra parte no. Quindi qua dentro ci sono le frequenze congiunte. Sono le frequenze interne. Sono le frequenze di chi contemporaneamente ha scelto x1, y1. E il modo per denominare col simbolo è quello di fare n1, 1. Dopodiché chiedo ma di voi chi è che è x1 e y2? Qualcuno di voi alzare la mano, qualcuno no. Perciò si indica come posizione riga colonna n1, n2. In realtà ci sono numeri e la stessa cosa quindi genericamente seconda riga, terza colonna oppure n1, j per mantenerci proprio generici. Vedo che la mia tabella ha tre righe, vedo che la mia tabella ha quattro colonne, quindi capisco che 3x4 avrò 12 celle interne. La dimensione della tabella fa informazione, perché se io la stessa cosa di queste 60 persone le distribuisco in 12 celle, vuol dire che sto chiedendo tante cose. Ognuno di voi può collocarsi in maniera un po' più precisa. Se io invece facessi solo due celle, maschio e femmina, sì e no, avremmo, scusate, quattro celle e quindi diciamo sarebbe meno informativo. Quindi una tabella più grande può avere più informazione, una tabella più piccola avrà meno informazione. Se a me chiedessero collocati nella fascia di età, bambino, anziano, mi tocca metermi in anziano, ma non è che mi sa tanto bene. Se invece dicessero bambino, ragazzino, adolescente, ragazzo, adulto, matto, io mi colloco nella zona che mi va un po' meglio perché ho più possibilità. Bene, la dimensione importante lo vedremo quando dovremo calcolare il massimo di questo indice che andremo appunto a cercare di misurare. Bene, quindi fin qua abbiamo capito che le frequenze interne sono le frequenze, sono dei numeri che contano quante sono le unità che hanno risposto una modalità di x abbinato a un'altra modalità di y. A margine ci sono le marginali che sono delle somme. Quindi qua sono le somme della prima riga, sono somme sottinteso delle frequenze della seconda riga e così via. E qui metto, aspetta che sposto questo n che era un po' troppo basso, e qui ci metto la somma delle frequenze della terza colonna. Quindi le raggruppo marginali non sono altro che delle somme di raggruppamenti. Ho quantificato, ho accumulato. Bene. Questo è proprio un esempio numerico. Abbiamo una e due righe, abbiamo due righe, abbiamo una, due, tre, quattro, cinque colonne, abbiamo cinque colonne, e quindi in tutto so che ho dieci celle da riempire. Chiedo, quanti sono i maschi che hanno quest'età? E mi rispondono in venti. Quanti sono i maschi che hanno quest'altra età? E mi rispondono in trenta e così via. Queste sono le frequenze interne. Queste sono le frequenze doppie. Queste sono le frequenze congiunte. Sono tutti sinonimi che possiamo utilizzare. Andiamo quindi a calcolare i totali marginali. Quindi venti più trenta, cinquanta, novanta, centoventi. Centoventi è la prima marginale. È la marginale relativa alla prima riga. Quindi il numero di maschi è centoventi. Il numero di femmine, novanta, cento, centottanta. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, centottanta. Bene. Andiamo per colonna. La frequenza marginale della prima fascia di età è trenta. Sessanta. Faccio la somma quaranta. Faccio la somma cinquanta. E centoventi. So che se io sommerò per riga oppure se io sommerò per colonna, comunque dovrò avere sempre lo stesso totale, che è trecento. Bene. Fin qua abbiamo solo visto quante cose si possono fare. Nulla di particolarmente, diciamo, strano. Dopo aver calcolato le frequenze marginali, possiamo fare allora un'altra cosa. Possiamo calcolare le frequenze condizionate. Infatti, sono gli stessi valori. Quindi, 20, 30, 20, 30. Allora copio centoventi e centottanta. Trecento. Intanto mi limito a mettere le marginali delle righe. Quanti sono i maschi giovani? Quanti sono relativamente, qual è la frequenza relativa dei maschi giovani? 20 diviso 300, cambio colore. 20 diviso 300. Quindi la frequenza relativa dei maschi giovani è 20 su 300, uguale a quello che verrà. Molto diverso dal dire, fra i maschi, quanti sono quelli giovani? 20 su 120. È una condizionata. Invece che vedere la numerosità della prima cella sul totale, faccio un parziale. La numerosità della prima cella solo fra i maschi. Oppure potevo chiedere, tra i giovani, tra le persone giovani che sono 30, qual è la frequenza dei maschi? 20 su 30, ben diverso. Quindi dalla stessa cella interna, voi potete avere tre frequenze relative. La prima frequenza relativa, dividendola per il numero totale dei maschi. La seconda frequenza relativa, che si chiamano condizionate, sul totale della colonna. La terza frequenza relativa, proprio sul totale. Questo lo fate sempre, tutti i giorni. Voi sempre dividete sul totale, su una parte, sulla parte che vi interessa. Di tutti quanti siamo stati il 7% per un bel voto, ma tra i maschi siamo stati l'1%. Cioè, dipende dal denominatore. Tutto cambia dal denominatore. Il numeratore è sempre 20, perché sto prendendo la prima cella, la prima casellina. 20 fratto 120 mi dà un'informazione, 20 fratto 30 un'altra, 20 fratto 300 un'altra ancora. I risultati sono ben diversi. Queste sono le condizionate. Ecco che allora, la domanda che si può fare è, allora, o domande proprio specifiche del tipo. Tra le femmine, qual è la frequenza relativa della classe 45-49 fra le femmine, relativamente alle femmine, condizionatamente alle femmine, parlando delle femmine. Tutti i modi che vogliono dire, considera solo il gruppo femminile e non guardare per adesso il gruppo maschile. Vado a farlo. Le femmine sono 180 e questa è la mia base di riferimento. Mi chiedevano quante sono quelle che appartengono alla classe 45-49, 20. Semplifico, un nono, dopodiché si fanno i calcoli. Invece, se chiedessi, quanti sono tra le persone di quella fascia, quelle che sono femmine, quest'altra domanda era, tra le persone di questa fascia, cioè tra queste 40 persone, quante sono femmine? La metà. Quindi, dipende sempre dalla base di riferimento. Fatto singolarmente, lo si può fare in maniera molto più costruita, molto più, diciamo, completa, e cioè la domanda è calcolare la distribuzione, quindi non solo una frequenza, ma tutta la riga condizionata, oppure tutta la colonna condizionata. E adesso lo facciamo. Eccolo qua. Calcoliamo la distribuzione condizionata relativa, intanto, alla prima riga. La distribuzione condizionata non è altro che non guardo quello che non mi interessa e guardo solo quello che mi interessa. Cioè, la mia attenzione è condizionata solo quello che mi interessa. Adesso voglio condizionarle per riga, per cui la prima volta lo condiziono ai maschi. Significa che io guardo solo, unicamente, la riga dei maschi. Quello che è l'informazione sul gruppo femminile, per adesso, non è di mio interesse. Quindi, visto che posso farlo, questa è un'informazione che non ci serve. Per le condizionate, si guarda solo l'informazione che ci interessa. Il totale era 180. Mi sono già preparata tutte le divisioni, tutti i fratti. Era 120. Bravi. 120. Quindi, divido tutto per 120. Intanto, la cosa curiosa è che, dividendo il totale 120 per il totale 120, ottengo 1. Come deve essere sempre per una distribuzione di frequenze relative. Perché queste sono frequenze relative. Divido tutto per 120. I nostri 120 individui sono 20 sulla prima categoria, 30 sulla seconda, 20 sulla terza e così via. 120 è il denominatore per tutti. Perciò, la distribuzione condizionata per i maschi, tengo le stesse, metto qua, 1, 2, 3, 4, 5. Qui c'è il totale, che è 1, o 100% come preferite. 20 su 120, faccio presto, un sesto così non faccio errori. 30 su 120, un quarto, quindi 0, 25. 20 su 120, un quarto e un quarto. Si fanno le somme, oppure teniamo tutto in dodicesimi. Ho sbagliato, cancello subito. Rifaccio. Due dodicesimi e nessuno può dirmi che sbaglio. Tre dodicesimi, due dodicesimi, molto più elegante e molto più prudente. E tolgo lo zero. Ecco. La somma fa dodici dodicesimi. Dopodiché voi scrivete proprio i numeri con la virgola, zero virgola. Sarà 0,15, 0,25, eccetera. Questa è la distribuzione condizionata dell'età. Questa è la distribuzione dell'età condizionata al gruppo maschile. Quindi, quando vi diranno di calcolare qualcosa, attenzione al lessico. Distribuzione dell'età condizionata a che cosa? Al gruppo maschile. Il gruppo femminile, quindi adesso lo svelo. Cancello quest'altro perché non ci interessa più, l'abbiamo già utilizzato. E quindi per il gruppo femminile avremmo da dividere tutto per il 180. Quindi ogni frequenza andrà divisa per 180. Perciò dividendo un diciottesimo, calcolatrice e viene fuori zero virgola, tre diciottesimi, due diciottesimi, tre diciottesimi, nove diciottesimi. Totale, diciotto diciottesimi, c'è il nostro uno. Quindi riusciamo ad entrare dentro le frequenze depurando dal totale finale, in modo da vedere proprio com'è la composizione. Bene. La stessa cosa che abbiamo fatto per riga la si può fare anche per colonna. È proprio qui che è venuto in mente. E ci si è accorto che quando le frequenze condizionate dei maschi di una riga sono uguali alle frequenze condizionate dell'altra riga, vuol dire che non c'è nessuna associazione. Vuol dire che la distribuzione dell'età è indipendente dal genere. Se invece le frequenze fossero distribuite in modo diverso, allora ci potrebbe essere una associazione. Faccio sempre degli esempi molto sciocchi, ma lo faccio apposta perché tanto non c'è. Se io volessi vedere maschio-femmina, calcio-danza, diciamo nella prassi è abbastanza più facile vedere dei calciatori maschi e trovare meno frequenti calciatori femmine, come anche nella danza attrae di più la parte delle femmine e attrae di meno la parte dei maschi. Ci sono perché gli sport sono aperti, però di fatto i numeri spesso sono così. Quindi verrebbe da dire c'è associazione, cioè una modalità attrae le unità di un'altra modalità. Se invece fossero uguali, se invece fosse che 30% dei maschi, 70% delle femmine fa questo sport e anche in altro sport 30% dei maschi, 70% delle femmine, concludiamo che non c'è nessuna associazione. Quindi se le righe condizionate sono uguali fra di loro, oppure se le colonne condizionate sono uguali fra di loro, allora c'è indipendenza, allora non c'è dipendenza. Dipendenza associazione lo usiamo quasi come sinonimi. Bene, la stessa cosa fare per colonne, quindi siccome 30 sono le unità complessive a margine della prima colonna, io divido per 30, divido per 30 e divido per 30 e do e ottengo la prima frequenza condizionata. Sono tutte distinte, sono tutte staccate. Dovrei fare una riga grossa di confine perché proprio sono diverse. Infatti ogni riga, ogni colonna alla fine avrà uno. Faccio la stessa cosa qui, tanto per vedere. 50 sono in totale le unità, perciò divido per 50, divido per 50 e anche qui ottengo 1. Ecco, si divide la frequenza interna per la frequenza a margine, secondo il margine che interessa. Ecco, siamo pronti per calcolare il chi quadrato. Allora, chi quadrato si indica spesso, cioè si indica spesso, o lo si scrive come parole chi quadro o chi quadrato, oppure il simbolo, la lettera greca, è una specie di x, una specie di ondina, invece che essere una x così, è una x con l'ondina e con l'esponente 2. Questo è il chi quadrato, lettera greca. Chi quadrato sarà proprio il simbolo dell'indice che ci dirà la misurazione di questa dipendenza. Zero se manca dipendenza, uno se c'è il massimo, uno relativo se c'è il massimo della dipendenza. Allora, come si calcola il chi quadrato? Ho messo qua un po' di passaggi. Allora, si fa così. Esattamente come se io volessi vedere, sempre facendo degli esempi, voglio vedere se il mio peso reale è perfetto oppure no. Allora, cosa faccio? Mi peso ed è il valore osservato. Guardo sul libro quale sarebbe il peso ideale e quindi ci deve essere un modo per trovare il valore ideale. Dopodiché faccio una differenza. Se i valori sono vicini, perfetto. Se i valori sono lontani, vuol dire che io sono molto lontana dalle situazioni ideale. La stessa cosa facciamo noi col chi quadrato. Allora, dalla tabella ci calcoliamo delle nuove frequenze interne, che si chiameranno frequenze teoriche, si chiameranno frequenze attese, si chiameranno frequenze di perfetta indipendenza. Dopodiché farò una differenza opportunamente calibrata per vedere quanto sono diverse oppure quanto sono uguali. Tutto qua. Bene. Ecco la prima tabella. Abbiamo una tabella. Le modalità non si toccano. Vedrete che in questa parte si lavora sempre solo con le frequenze, per forza. Perché se le variabili possono essere anche di tipo qualitativo, devo avere un meccanismo di elaborare i dati senza toccare le modalità, perché saranno parole. Queste sono le frequenze osservate. Queste sono le frequenze reali, empiriche, osservate. Quelle che ho contato. Frequenze osservate. Ripeto, il simbolo è N. Qua a fianco, cambio colore, mi calcolo delle nuove frequenze che saranno quelle teoriche e il simbolo che ho visto utilizzato è una specie di V-storta, sempre con I-J, in modo che sappiamo che prima riga, prima colonna, e calcoleremo prima riga, prima colonna, cioè appaiate, ovviamente corrispondenti. Queste sono le frequenze teoriche di indipendenza, di perfetta indipendenza. La cosa che dovete fare subito è scrivere le marginali che devono essere sempre le stesse. Se leggo 30, deve essere 30. Se leggo 45, deve essere 45. faccio tutte le caselline e la stessa cosa anche marginale per le righe. 40 è la marginale della prima riga e 35 marginale della seconda riga. e leggo 75 come totale. Questo deve essere. La cosa che andiamo a calcolare è vedere dentro che frequenze avrebbero dovuto esserci, come se avrebbero dovuto essere mescolate, se ci fosse perfetta indipendenza. Allora, al posto di questo 10, cioè siamo qua, prima cella in alto, e calcoliamo la prima cella in alto, si mette il risultato di queste due operazioni. Moltiplico le due frequenze a margine corrispondenti alla cella, quindi 30 per 40, e divido per 75, quindi qua dentro ci metto 30 per 40 fratto 75 e vedo cosa avviene. Se mi viene 10, vuol dire che realmente sono vicino alla indipendenza. Adesso lo faccio anche per l'altra cella. semmai chiedo aiuto a voi per il calcolo, perché non trovo il telefono. Ah no, è qua. Allora. 30 per 40 diviso 75 e le 16. Non è 10. Ancora. Seconda cella. Quindi tolgo i colori. la mia seconda cella, il 30. In teoria, se ci fosse indipendenza, vado a moltiplicare il totale della sua riga per il totale della sua colonna e divido sempre per 75. Quindi lo lascio scrivere a voi, se no io pasticcio troppo. 40 per 45 40 per 45 diviso sempre il 75 mi fa 24. Riprovo. 40 per 45 diviso 75. Sì, 24. Se vedete la somma, 16 più 24 fa 40, c'è un altro modo di distribuire le frequenze se non ci fosse nessun legame. La stessa cosa lo facciamo sotto. Quindi il nostro 20 che andrà a vedere in teoria che frequenza potremmo avere si otterrà la sua frequenza teorica moltiplicando il totale della sua riga, cioè 35 per il totale della sua colonna diviso sempre 75. Quindi totale di riga per totale di colonna fratto l'n complessivo. 35 per 30 35 per 30 tutto diviso il 75. 14. Vado a fare il calcolo anche se so che mi verrà 21 perché il margine 35 lo devo avere ancora, però lo faccio. Quindi 35 per 45 35 35 per 45 diviso 75 uguale 21. Ovviamente controllate sempre che le somme tornino perché avete visto quanto è facile sbagliare. Si sbaglia, digitare, si confonde e quindi controllate. La somma per riga continua a fare 40, la somma per colonna continua a fare 30, semplicemente le abbiamo distribuite in modo diverso. quindi la tabella quella di sinistra è quella reale, la tabella di destra è quella teorica se non ci fosse nessun legame. L'indice andrà a fare una operazione di questo tipo. Il chi quadrato si calcola così. Allora, si fa una somma, prima scrivo la formula come trovate sul libro, dopodiché la applichiamo. Facciamo una somma di tutte le righe e colonne dove al numeratore metteremo un quadrato e il quadrato sarà della differenza tra la frequenza osservata, la nostra n, con la frequenza teorica. Quindi queste differenze potranno essere minori o maggiori di zero, una può essere più piccola, il risultato, lo scarto può essere negativo o positivo, elevandola al quadrato, un po' come per la varianza, diventa tutto positivo e anzi viene abbastanza ingigantito. Poi fuori dalla parentesi viene divisa per la stessa frequenza teorica. Bene, quindi adesso facciamo il calcolo. Vado per colonna, cioè la prima cella, 10, meno il suo valore corrispondente che è 16, al quadrato, tutto, diviso il 16. Adesso, andiamo per riga, è lo stesso perché tanto è commutativo andare per riga o per colonna, le somme saranno sempre di quattro caselle. Seconda cella, 30, meno 24, 30, osservato, meno 24, calcolato noi teorico, chiuso tutta la seconda, diviso questo 24, più, vado nella riga delle femmine, ho 20, meno 14, calcolato tutto il quadrato, fratto 14, e poi ho l'ultimo, che è 15, meno 21, chiuso tutto il quadrato, fuori parentesi, mi raccomando, diviso 21. E si fanno i conti. E quindi, faccio i conti, tanto i numeri negativi, li posso trascurare, perché quando li levo al quadrato, diventa tutto positivo. il primo, la prima frazione, 6 alla seconda, 36 diviso 16, fa 2,25, mi metto qua, 2,25 più. Adesso voglio fare questa seconda, quindi 30 meno 24 fa 6, 36 diviso 24, fa 1,5. bene, adesso voglio fare quest'altra, essendo quadrata con 2, quando cavo da 1, metto nell'altro, è sempre 6 la differenza, 6 alla seconda, 36 diviso 14, uguale, 2,57, e 15 meno 21, farebbe meno 6, ma quel meno, tanto col quadrato diventa più, 36 diviso 21, 36 diviso 21, uguale, 1,71. Faccio la somma, ottengo il mio chi quadrato assoluto, quindi, 2,25 più 1,5 più 2,57 più 1,71 uguale 8,03. Benissimo. Mi chiederanno, è tanto? Io risponderò, non lo so, perché 8 io non so quanto sia, devo andarlo a confrontare con un valore massimo possibile. la buona notizia è che dopo vi do un'altra formula per fare più in fretta, però intanto dobbiamo imparare questa che è quella classica. Bene, questo è il valore del chi quadrato, scriviamo la parole, chi quadro, assoluto. Quindi non sappiamo dire se tanto o poco. Quanto è l'associazione? Boh, 8, non lo so quanto sia. Calcoliamo il valore massimo. Allora, non è un caso in una tabella 2x2, perché se tu, come cella, hai sei punti in più, li porti via me. E se li porti, eh sì, si pareggiano. Quindi in questo caso è una regolarità, in tabella 2x2. Quindi, in realtà, guardatelo come cosa che, cioè, le regolarità tornano, quindi anche quando si fanno i conti, se per caso uno vede, se tolgo e ottengo meno 6, tolgo e ottengo più 10, strano, perché le unità che slittano sono 6 da una parte, 6 dall'altra. Bene. Massimo valore possibile. Il massimo valore del chi quadro si ottiene, proprio come dicevamo prima, guardando la grandezza della tabella, cioè, prendo n, perché anche la numerosità è importante, ed erano 75, intanto scrivo in formula, n, per, a questo punto, dobbiamo prendere il più piccolo, minimo, tra che cosa? tra due cose, le separo col punto e virgola o con la virgola lo stesso, il minimo tra le righe meno 1 e le colonne meno 1, righe meno 1, colonne meno 1, in pratica, la nostra tabella, quante righe aveva? 2, tolgo 1, mi rimane 1, e quante colonne? 2, meno 1, 1, il minimo tra 1 e 1 è 1, lo moltiplico per n e quindi mi viene 75 per 1, 75 era, anzi, 75 è il massimo del valore possibile per un chi quadrato, con una tabella di queste dimensioni, con questa numerosità, poi rifacciamo tutto. Quindi a questo punto l'8 su 75 lo si fa con la divisione, quindi il chi quadrato, chi quadro relativo è 8,03 fratto il 75. Calcolatrice e verrà, adesso si chiede un valore decimale, verrà poco più del 10%, poco, quindi bassa dipendenza. Siamo vicino allo zero. Quindi in realtà, pur essendo, non essendo nella situazione di perfetta indipendenza, che dal punto di vista della realtà è veramente strano, quando le cose sono troppo perfette, vuol dire che non sono casuali, vuol dire che sono state pilotate, quindi vuol dire che c'è stato dietro qualcosa, quindi anche di fronte alla perfezione, lo statistico, capisci che dietro c'è un meccanismo. Bene. Quindi, dalle frequenze osservate doppie, dalle frequenze osservate doppie, voi facendo questo passaggio, n di riga per n di colonna diviso l'n totale, vi calcolate le frequenze interne teoriche. Scriviamo teoriche di di perfetta indipendenza. Cioè le variabili non sono collegate fra di loro, proprio non hanno nessuna influenza, non c'è nessuna influenza, indipendenza. E le mettiamo qua dentro. l'indice assoluto, l'indice massimo e l'indice relativo, quindi si calcolano facendo l'n di una cella meno la frequenza della cella corrispondente, tutto diviso questo e lo faccio per tutte e le sommo. Il valore massimo invece si trova guardando quante sono le unità, perché è importante sapere anche quante sono le unità e le unità vanno moltiplicate diciamo per la per la dimensione più piccola tra righe e colonne meno uno. Guardate qual è la dimensione più piccola tra le righe delle colonne e poi togliete uno. Si scrive così minimo tra righe meno uno e colonne meno uno. L'indice relativo si trova proprio facendo l'indice assoluto diviso l'indice massimo e sappiamo che questo valore sarà sempre compreso tra zero e uno, quindi sì che è commentabile. Qui c'è perfetta dipendenza cioè esiste perfetta associazione e invece qua totale indipendenza. Sicuramente la fatica di sentire un altro indice però viene supportato dalla voglia perché se vi dico che l'altro indice è più veloce magari può essere anche appetibile. Poi ognuno vedrà quale preferisce. Questo indice che vi dirò questo secondo modo però funziona solo con le tabelle piccole due per due. Se voi avete una tabella due per tre due per quattro tre per tre per quattro quattro per due che non sia due per due no. Quindi il caso particolare che vi do adesso funziona solo per una tabella con quattro caselline due e due andiamo a vedere se ce l'ho eccolo qua ce l'ho allora riprendo l'esempio di prima così ci teniamo proprio tolgo i colori copio vado qua giù bene allora le caselle quindi quelle interne sono queste qua e quelle a margine sono marginali tanto per uniformarmi al libro ma mi è piaciuto molto il libro chiama il totale della prima riga lo chiama R1 mi piace il totale della seconda riga lo chiama R2 il totale della prima colonna lo chiama C1 tanto per dare la formula generica e il totale della seconda colonna C2 le frequenze interne tanto per dargli un nome anche quelle vengono chiamate io mi rifaccio sempre al libro ma per dare una forma generica bisogna essere in grado di estrarre AB CD bene ora vi dico come si calcola il chi quadrato lo scrivo in parole lo scrivo anche in simbolo non si sa mai chi quadrato o chi quadro assoluto il massimo del chi quadrato e quindi il chi quadrato chi relativo allora tutte quante sia la prima che l'ultima sono delle frazioni al numeratore si prende si moltiplicano le due frequenze in diagonale A per D si moltiplicano le due frequenze in diagonale A per D dopo ci mettiamo i numeri e si toglie le altre due frequenze moltiplicate B per C quindi una diagonale moltiplicata meno l'altra diagonale moltiplicata B per C chiudo e levo al quadrato perché anche l'indice di prima comunque era una differenza al quadrato sotto mettiamo tutte moltiplicate la prima riga per la seconda riga per la prima colonna per la seconda colonna e una volta che abbiamo fatto questo moltiplichiamo anche per N lo metto davanti perché io altrimenti lo dimentico quindi andiamo a fare i conti mi sposto un po' con quello che ho scritto prima visto che posso giù bene N 75 per tonda A 10 per l'altra diagonale 15 meno B e C sono 30 per 20 elevo al quadrato e divido tutto per 40 35 30 45 fate i conti e vi viene il chi quadrato assoluto andiamo a vedere quant'è il chi quadrato massimo l'abbiamo già fatto prima il chi quadrato massimo è il prodotto tra N e il numero più piccolo tra le righe e colonne diminuite di 1 ma le righe e le colonne sono 2 2 quindi prendo 2 tolgo 1 rimane 1 N per 1 N il massimo valore del chi quadrato è la numerosità quindi ecco perché il chi quadrato relativo quando divido queste due formule quando divido la formula questa per N mi rimane tutto a parte l'N quindi AD meno BC al quadrato fratto tutte le marginali R1 R2 C1 C2 se volete un riferimento se volete un riferimento un attimo che vado a cercare vado a cercare vado a cercare intorno a pagina intorno a pagina 89 da pagina 89 in poi trovate questo argomento il caso sono tutte cose che sono un pochino diciamo interne questo gli esempi presi lo svolgimento è proprio di pari passo al vostro libro che diciamo offre tante cose solo bisogna poi saperle mettere in luce bene a parte poche cose il programma è finito la cosa importante adesso riuscire a ritirare fuori tutto quello che avete imparato vedere dove non perdervi vedere qual è la parte di competenza vera che bisogna sapere e quello che ci si arriva dopo pensando bisogna concentrare su alcune cose e soprattutto leggendo il testo bisogna sapere orientarsi bene riguardando tutti gli esercizi del libro come forse l'ho messo in un video corretto allora classe modale classe modale la moda si trova quindi quello che voi sapete da queste nove lezioni domani dopo domani rifacciamo le cose ma aggiungendo esercizi voi mi farete domande perché poi lunedì prossimo siete nel pretesto quando avete da trovare la moda o si cerca la frequenza massima o si cerca la densità massima la densità massima si cerca quando si ha una classe altrimenti si guarda la frequenza massima qui abbiamo una classe perciò dobbiamo trovare la densità massima la densità massima comunque la densità si trova facendo le frequenze diviso l'ampiezza l'ampiezza la si ottiene guardando le classi e si trova in questo modo finalmente ho trovato il modo proprio giusto 15 meno 0 e poi aggiungo 1 21 meno 6 e poi aggiungo 1 perché perché il peso che sarebbe una variabile continua come dice il libro è stato discretizzato cioè l'hanno trasformato in discreto quindi il modo per calcolare l'ampiezza quando è stato trasformato in discreto cioè con un salto da 15 a 16 con un salto da 21 a 22 allora lo si corregge facendo la differenza dei due estremi e aggiungendo secco l'unità l'ampiezza perciò è 16 l'ampiezza 21 meno 16 5 è 6 30 meno 22 8 più 1 l'ampiezza è 9 34 meno 31 3 più 1 l'ampiezza è 4 40 meno 35 5 più 1 6 adesso facciamo la divisione la divisione 20 fratto l'ampiezza 100 fratto l'ampiezza 400 fratto l'ampiezza 300 fratto l'ampiezza ho il terrore di sbagliare 25 fratto l'ampiezza risultato vedete qual è la frazione più grande quella individua la classe modale ho sbagliato no no posso farle una domanda già che ci sono no se posso proprio approfittare per chiedere questa questione dell'ampiezza perché ho sempre avuto dubbi anche facendo gli esercizi a casa io per esempio appunto avrei fatto l'ampiezza 15 meno 0 per esempio il fatto che bisogna aggiungere 1 lo dobbiamo al modo in cui sono organizzate le classi in questa tabella esatto questa tabella non ha continuità c'è un salto c'è un salto di una unità ok mentre se non c'è tanta continuità invece no se fosse 0 16 16 20 20 27 sarebbe semplicemente la differenza perché sono continue in modo che non c'è nessun salto invece nel nostro caso nel nostro caso praticamente da 15 a 16 avremo mezza unità da una parte mezza dall'altra la stessa cosa tra 21 e 22 io ho visto che l'esercizio perché qui spesso in letteratura ci sono due o tre modalità ci sono come due o tre modi diversi vieni a vedere qual è il libro da seguire noi seguiamo il libro del professore quindi si fa l'ampiezza estremo superiore meno estremo inferiore più 1 15 meno 0 più 1 21 meno 16 più 1 e così via fino all'ultimo 40 meno 35 più 1 questa è l'ampiezza perfetto grazie mille ecco a te che così abbiamo ribadito si fa la divisione si vede qual è la frazione maggiore la frazione maggiore ci darà l'idea di qual è la classe modale corrispondente calcolare il valore mediano qui abbiamo invece valori discreti facile come si fa si mette sempre in ordine si trova la posizione centrale o le posizioni centrali posizione centrale e quindi qui osservate sempre se n è pari oppure se n è dispari in questo caso è dispari quindi quando le unità sono dispari abbiamo solo una posizione centrale che sarà la sesta perché 5 più piccole 5 più grandi è proprio ben in mezzo quindi mettiamo in ordine per 2 per 3 volte l'unità dopo per 2 volte abbiamo il valore 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sono 9 e 1 1 1 2 2 poi c'è il 4 poi c'è il 5 il 6 il 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi non sono 11 ma 9 poi lo corrego 9 l'unità centrale è la quinta quindi lo fate anche proprio a mano andando verso il centro e comunque 9 più 1 fa 10 diviso 2 5 questo è il modo quindi questa è la posizione centrale il valore di questa posizione è 2 quindi la mediana è la modalità 2 la mediana è sempre una modalità quindi vuol dire che metà unità sono alla sua sinistra più piccole metà unità sono alla sua destra più grandi e quindi questo è il risultato una domanda sì nel caso fosse pari perché il libro dice che il valore sarebbe intermedio tra i due che si sono trovati ma quindi concretamente a livello di esercizio quale sarebbe quali sarebbero questa mediana sì intanto allora due modi rispondo uno rispondo per l'esame voi avete quattro risposte quindi trovate la risposta corrispondente facciamo fida che siano dieci qui ci sono cinquanta quindi le due posizioni centrali sarebbero queste quattro unità più piccole quattro unità più grande e vedo che le due unità hanno dei valori delle modalità diverse la risposta può essere data in questo modo il valore mediano è tra due e quattro quindi voi leggete proprio queste parole tra due e quattro oppure il valore mediano è tre la semisomma ci sono questi due modi di dare il valore della mediana quindi o si dice a parole tra due e quattro in genere questo modo lo si fa quando sono parole tra basso e medio quando sono numeri spesso si fa la semisomma si fa la media aritmetica bene grazie bene per la distribuzione di età di cento unità anche qui possiamo fare o con le fi con le frequenze relative accumulate oppure facciamo ancora qui ci calcoliamo le accumulate lo facciamo con l'n allora n è pari quindi ho due posizioni la cinquantesima e la cinquantunesima andiamo a vedere dove si trovano qui cumulo quindi qua mi faccio le accumulate 40 è la prima 40 più 20 60 e già ci sono dentro vado avanti 90 95 100 dove si trova la cinquantesima qui la cinquantunesima per fortuna qui quindi questa è la classe mediana io vado avanti se non mi fermate se non avete dubbi comunque c'è anche domani e anche venerdì bene eccola qua anni compiuti la variabile età è una variabile tipo continuo ho 12 anni 3 mesi 14 giorni e qualche minuto in realtà molte volte l'età viene rilevata in anni compiuti quindi quando siamo prossimi al compleanno o che manca poco o che è passato poco si arrotonda l'età centrale quindi è di norma ve l'ha detto il professore me l'ha detto lui e la volta che mi ha sostituito che per calcolare l'età media in anni compiuti per calcolare l'età media in anni compiuti si calcola l'età media e poi si aggiunge 0,50 al risultato quindi l'età media in anni compiuti quindi l'età finale facciamo compiuti è l'età media cioè facciamo la somma di tutte le frequenze fratto vabbè sono singoli posso fare a meno di metterla n tanto la frequenza è 1 diviso 10 e poi aggiungo 0,50 questa è la novità questa è la correzione perché la variabile continua età è stata trattata come se fosse discreta questo ha 10 anni ma chi lo sa se poi ha 9 anni e 11 mesi e ha detto dai che ne ho 10 oppure ne ha 10 perché l'ha compiuti due settimane fa e quindi risponde 10 quindi questa diciamo risposta con un numero discreto ci fa un po' perdere la continuità e la continuità viene corretta in questo modo perciò 10 più 12 più 10 più 8 più 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 più 0 50 10 virgola 50 vi danno una lista di valori disordinati li ho già messi ordinati per recuperare tempo trovare lo scarto interquartile lo scarto interquartile è la differenza che c'è fra il terzo quartile quello che occupa la settantacinquesima posizione su 100 meno il Q1 quando sono così pochi si fa proprio a mano quante sono in tutte le unità? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il primo quartile la posizione del primo quartile 9 fratto 4 2,25 2,25 è vicino a 2 è vicino alla posizione numero 2 e quindi il primo quartile è 4 il terzo quartile è 9 unità per 3 quarti uguale 6,75 27 diviso 4 6,75 che è vicino a quale posizione? alla settima che è questa il scusate ho scritto male qua il primo quartile è 4 il terzo quartile è 9 la differenza è 9 meno 4 quindi quando sono poche le unità voi fate n fratto 4 per trovare la posizione nel primo quartile e arrotondate l'intero più vicino n per 3 quarti quando è il terzo quartile e arrotondate l'intero più vicino e andate a vedere qual è la posizione la seconda posizione assume valore 4 la settima posizione assume valore 9 non ho scritto le pagine però nel libro ci sono tutte sì il concetto di quartile mediane è io sono qua gli altri sono più piccoli di me quindi devono essere ordinati sempre se fosse nominale sconnessa con delle parole che non hanno un ordine non ha senso calcolare i quartili se fossero città di provenienza se fossero esami scelti se fossero libri letti oppure colori preferiti non li posso mettere in ordine perché ognuno potrebbe collocarli con un ordine soggettivo anche casuale quindi sempre ordinabili varianza allora è rimasto il calcolo dovevo segnare qualche parte l'ho scritto qua quindi adesso l'oscuro per un attimo e poi qua invece che n dovevo scrivere n piccolo è che quando si va a caporiga delle volte viene il valore maiuscolo automatico bene ci calcoliamo la varianza quindi avete le modalità 3, 5, 7 avete le frequenze 4, 2, 2 per cui il totale è 8 ci calcoliamo la varianza sicuramente io mi calcolo la varianza con la formula che mi dice fai il quadrato di tutti gli sommi e dividi per il numero totale 8 e una volta per tutti togli la media aritmetica elevata al quadrato perciò mi metto qua di fianco la media aritmetica è 3 per 4 più 5 per 2 più 7 per 2 tutto diviso il totale dell'unità vado a copiare vado a copiare 4,5 4,5 è la media aritmetica guardo se ha senso sì 4,5 è fra 3 e 7 un po' più basso di 5 perché d'altronde le unità che hanno risposto con un valore piccolo 3 sono di più quindi abbassano la media quindi 4,5 potrebbe essere corretto questo è quello che voi dovete fare cioè dovete sempre fare un'autovalutazione del vostro operato adesso mi faccio il quadrato pesato ho aggiunto qua moltiplicato per n perciò 3 alla seconda 9 per 4 più 5 alla seconda 25 per 2 più 7 alla seconda 49 per 2 tutto fratto 8 perciò questa parte è questa parte meno il 4,5 5 alla seconda il risultato calcolo vi viene la varianza oh là qui ci sono già più sì ci sono c'è una domanda qua il significato matematico della varianza perché a noi praticamente viene fuori un risultato che è un quadrato giusto che mi sembra fosse sigma al quadrato esatto che quella è la varianza quindi la risposta sarebbe già stata data se noi andiamo a fare la radice il significato matematico qual è? ah sì è derivato se la direzione standard la radice della varianza adesso non ho risultato finale vi dice qual è il numero tale per cui se voi dalla media aggiungete togliete questo numero avete due estremi che conterranno circa il 70% delle vostre unità è come un preventivo un mobile costa mille sicuro sicuro più o meno 50 euro tra 950 e 1050 ci sarà probabilmente il prezzo sarà difficile che vada al di fuori di questi due intervalli di questi due estremi quindi la deviazione standard è lo scoscamento medio che noi ci aspettiamo rispetto alla media aritmetica per avere racchiuso al suo interno circa un 70% delle unità considerate cioè il 30% che ne rimane fuori sono un 30% abbastanza anomalo questo è il significato di deviazione standard e la cosa grande è che la deviazione standard riavrà l'unità di misura di partenza se qui parliamo di anni la deviazione standard è anni invece la varianza è anni al quadrato quindi non ha nessun senso reale la varianza è la base della statistica tutto quello che si fa parte dall'analisi della varianza infatti c'è proprio il capitolo analisi della varianza però di per sé è un numero che non è commentabile è un numero importantissimo da cui discende tutto però di per sé lui non ha nessun nessun senso lui è il capostipite è il capostipite di tutto quello che discenderà allora allora non c'è la continuazione la continuazione sarebbe intanto e sarete la radice questo è il primo esatto poi ci sarebbe il coefficiente di variazione che sarebbe la deviazione diviso la media aritmetica in modo che riusciamo a vedere la deviazione in un gruppo però con quell'unità di misura la deviazione in un altro gruppo con quell'unità di misura togliamo l'unità di misura ci rimangono due numeri puri e li possiamo fare dopodiché da qua esplode la statistica offre tantissime cose tipo la regressione però va al di fuori del programma sì è stato pensato questo programma per dare tutti gli elementi per poter affrontare le prime letture di elaborazioni statistiche più che farle allora con queste questa è una domanda che ho visto fare spesso domani continuiamo da qua quindi siamo arrivate alla 7 ne facciamo ancora due vogliamo creare una tabella quindi questa è la tabella vera osservata e io non posso manipolarla perché questi sono i dati voglio vedere come potrebbe essere una tabella in caso di massima dipendenza allora si comincia così intanto dobbiamo cercare di spostare il più possibile le variabili e spostare il più possibile le le frequenze allora visto che qua ne ho 10 le metto tutte qua però in realtà qua ne ho 12 quindi non posso mettere 0 la massima dipendenza la massima sì dipendenza sarebbe avere degli 0 però non posso mettere 0 perché comunque ne ho 12 quindi qua ci metto 2 allora 10 qua ci metto 0 e quindi per differenza devo mettere 12 questa è una è la situazione in cui ho il massimo della dipendenza più 0 mettete meglio è ad esempio se io mettessi forse si potrebbe fare anche in un altro modo questo è il modo più facile che trovo quindi fissate la colonna la riga con le unità inferiori e li mettete subito o qui o qui io l'ho messa nella prima questa è una situazione di massima dipendenza invece una situazione di assenza di dipendenza dovrei mettere tutte le mie frequenze proporzionate allora visto che qua ne ho 12 gli esempi che avrete non hanno dei valori difficili quindi si ricarica abbastanza quello che stiamo facendo posso far così 7 7 5 e 5 cioè non c'è nessuna differenza tra avere risposto vero e falso la distribuzione è la stessa quindi non è che chi ha risposto vero ha spostato le sue risposte diversamente da chi ha risposto falso quindi quando le righe oppure le colonne sono in proporzione cioè sono multipli l'uno dell'altro proporzionali allora abbiamo la totale indipendenza domani continuiamo dalla numero 9 quindi domani abbiamo la sommatoria abbiamo il chi che abbiamo visto oggi il chi quadro assoluto Gini indice rapporto indice a base mobile e Grazie.